Sì, pronto Ciao Luciano, Peppe Scopelliti, come stai? Eh, non c'è male, siamo qui, sono vicino a Correggio, vicino a casa mia, perché stavo per scrivere una canzone del prossimo album No, ti volevo, senti, prima di iniziare la conversazione, hai un numero, è un numero Vodafone, che ce li chiamate gratis, io se... No, purtroppo sono con la DIM, io purtroppo, no? Comunque dimmi, dai, che cosa c'è? Siccome ora mi candido alla Regione, alla Presidenza della Regione, non è che potevi scrivermi una canzone per la campagna elettorale? Vabbè, ci metto dieci minuti, te la scrivo subito e te la invio via email, se ti va bene, no? Vabbè, ciao, grazie, ciao, 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 grazie Una vita da roviero, con steccacchio di primarie, dieci mesi per capire se ti fanno candidare Una vita da roviero, a recuperare voti In questi anni hai fatto pure peggio di chi era valuti Una vita da roviero, a cercare sempre spazio Ma il 28 non c'è niente, vince Peppe a casa, ragazzi Una vita da roviero, cinque anni alla Regione Sono bastanti per capire che sei proprio un gran Lì, sempre lì, sempre in mezzo Non tanto vai, non tanto vai mai